Oh, si terrà una riunione cittadina per decidere come spendere il denaro del signor Barn. Oh, che manno sarebbe per le nostre scuole pubbliche senza fondi? Ragazzi, è l'ora della lezione di storia. Indossate i vostri caschi in realtà virtuale. Mmm, magnifico! Salve, Lisa! Sono Gengis Khan. Vai dove vado io! Profana quello che profano io! Mangia chi mangio io! Dai, Lisa, sappiamo entrambi come questi soldi dovrebbero... No, devono essere spesi! Bart, faremo qualunque cosa vuoi. Basta che richiami le tue formiche meccaniche giganti. Ah! 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 Ah